Francamente non si parte da zero, basta la volontà politica per realizzarla. Il completamento della variante alla Statale 16 deve tornare nell'agenda politica del governo e questa è la richiesta raccolta dal presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Altero Matteoli, che a Montesilvano ha partecipato ad un convegno organizzato dall'amministrazione comunale e a cui hanno presenziato anche la provincia di Pescara e la regione Abruzzo per discutere del futuro dell'asseviario a scorrimento veloce. Servono almeno 100 milioni di euro per portare a termine il progetto, soldi che ANAS non ha e poi il cammino dell'opera, attesa da decenni da tutta l'area metropolitana e anche dalla regione, deve riprendere, spiega Matteoli, da dove si è fermato e quindi i tempi non saranno certamente brevi. Il DPF approvato dal Parlamento, il DPF 2008-2012, era inserita questa opera. Poi i governi successivi lo hanno tolto. Ora però si tratta di coinvolgere l'ANAS, si tratta, ora se viene fatto un nuovo governo, di poterla portare anche nella Commissione che io presiedo, per vedere di trovare anche alleati tra gli altri membri della Commissione, per poter insistere e fare pressione sul governo, sul ministro del Rio in questo caso, comunque su chi andrà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi spingere molto su ANAS. Nel convegno a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei comitati civici di Montesilvano, si è parlato anche del presente della variante. A breve la galleria I Pianaci, inaugurata nel 2009, verrà sperimentalmente limitata alla circolazione in senso unico verso sud. La galleria infatti non è a norma, è tra le più pericolose del nostro paese e sopporta un carico di 35.000 veicoli, troppi per le potenzialità attuali. La proposta di ANAS accolta dal tavolo prefettizio però è molto discutibile e rischia di far tornare Santa Filomena alla situazione anteapertura della galleria, spostando traffico e smog nella zona al confine con Pescara. È una soluzione che comunque avrà una validità soltanto di qualche mese, dopodiché rifaremo una valutazione sul tavolo prefettizio da cui questa soluzione è uscita per cercare di garantire quella che è la celerità degli spostamenti dei nostri cittadini e delle merci che transitano oggi su quell'arteria, con quelle che sono le necessità della sicurezza che deve garantire comunque l'accesso e la viabilità all'interno.